Un incontro con i quattro candidati alla presidenza della giunta regionale per fare il punto sullo stato della editoria locale. Se ne è parlato stamane a Campobasso, presso la sede dell'Asso Stampa Molise, Donato Toma, Agostino Di Giacomo, Carlo Veneziale e Andrea Greco hanno incontrato i vertici dell'Ordine dei giornalisti e di Asso Stampa Regionali. Nel corso dell'incontro sul tavolo anche altre fondamentali questioni a garanzia di una informazione puntuale e di qualità, ovvero le misure da adottare a sostegno del settore e la definizione delle attribuzioni e della regolamentazione del funzionamento degli uffici stampa. Un impegno comune a sostenere la stampa molisana. Nelle parole del presidente di Asso Stampa, Giuseppe Di Pietro, sottolineato l'esito del confronto. Noi abbiamo raccolto la disponibilità al confronto, che era quella che chiedevamo e quella che ci auguravamo ci venisse confermata e questo ci fa ben sperare che passata la tornata elettorale ci sediamo attorno al tavolo con gli attori che saranno designati dai cittadini, dagli elettori. Tanto da Di Pietro il riferimento a quanto già prodotto dall'amministrazione regionale uscente in tema di editoria. L'amministrazione uscente ha fatto un grosso lavoro e ha fatto una cosa che non avveniva negli altri anni, cioè ha prodotto una legge su cui noi abbiamo avuto modo di osservare alcuni punti e ha messo a disposizione anche alcuni milioni di euro. Certo, dobbiamo ancora migliorare delle cose, se si fosse fatto un po' prima era meglio, speriamo di farlo nell'immediatezza appena sarà passata, dopo il 22 aprile.